no 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 speriamo che non si fuma un mulinello qua regà porca porca eccolo chiama mamma dice guarda sta fumo qua sopra madonna madonna che grosso ora no 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 eh oddio oddio ecco là è partito è partito mamma mia guarda 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 che sto facendo oddio 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 sta a portatutto oddio ora è visto no 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 ho due sono due sono due to do porca guarda, sappia forza si ma è partito qua dietro da noi senti, senti che rumore ecco i cani abbagliano allora le finestre le richiude però se le appoggi così le stacca tutto queste qua le richiude ma chiudile no? prima mica c'è stato il tornado grazie